buongiorno francesco buongiorno come ti stai trovando oggi all'evento delle opzioni ma molto bene il corso è interessante abbiamo sviluppato stamattina la parte teorica e direi che è molto interessante come è conosciuto assistenza brokers ma l'ho conosciuta attraverso internet o insomma mi è capitato di vedere alcuni vostri articoli ho visto i vostri video e li ho trovati molto interessanti allora ho deciso di fare questa giornata per venervi a conoscere e approfondire alcune tematiche ok visto che è la prima volta che viene a trovarci il primo impatto come è stato è stato positivo ho ritrovato la voce che vedevo nei video in andrea quindi è stato bello legare la voce con con un viso e conoscere voi è stato molto molto bello molto interessante abbiamo rispettato le tue aspettative rispetto a quando ci sentivi e se mi chiamavano delle spese sì 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 direi di sì insomma volevo infatti approfondire conoscervi e approfondire le tematiche che mi piacciono di più per cui era un modo per venire conoscenza di voi ancora più in maniera approfondita per quello che visto oggi consiglieresti assistenza brokers a qualcuno sì sì direi di sì sicuramente sì è sicuramente una cosa che consiglierei di fare insomma di studiarvi meglio di approfondire le vostre conoscenze va bene ti ringrazio francesca buona giornata grazie a voi se anche tu vuoi partecipare a uno dei nostri eventi e passare qualche ora insieme nel nostro ufficio per conoscerci meglio e stringerci la mano contattaci a info chiocciola assistenza brokers punto it e riceverai tutte le informazioni noi ti aspettiamo